C'è solo un biscotto numero uno in Italia, questo, Oro Saiva, numero uno perché fatto secondo le regole d'oro, il grano più dorato, macinato in proprio, impastato a lungo, cotto al punto giusto e impacchettato caldo in porzioni salva freschezza. Ecco le regole d'oro che fanno di Oro Saiva una bontà per tutti, perché... Sontoroi, mi scatti, di Oro Saiva!